Buongiorno, benvenuti a tutti per questa rassegna stampa di oggi 30 marzo, sono un po' spettinato ma mi sopporterete così. Oggi sono molte cose sui giornali, la prima riguarda la cosiddetta commissione sulle banche che è stata istituita con una firma del Presidente della Repubblica, tutti i giornali ne parlano perché dice Presidente della Repubblica Mattarella non ci siano sovrapposizioni con Consob e Banca d'Italia. Siccome in questa rassegna stampa parliamo chiari e vi vogliamo raccontare esattamente che cosa sta succedendo, la cosa è molto semplice, il Presidente della Repubblica non ha la minima intenzione di fare una nuova commissione parlamentare che sia una specie di talk show guidato da Gianluigi Paragone. Ha ragione Maurizio Belpietro, oggi sulla verità è nelle prerogative del Presidente della Repubblica opporsi alla costituzione di una commissione bancaria? No, non è l'affare suo, anzi Belpietro è durissimo, dice che vuole proteggere i suoi altarini bancari, non suoi del Presidente della Repubblica ma diciamo quel deep state che passa dalle galte bruclezie alla vocatura di Stato alle banche, può anche darsi. Ma io vi dico, voi veramente volete oggi distruggere il settore bancario italiano e la sua reputation mettendoci a guida della seconda commissione bancaria fatta nel giro di due anni Gianluigi Paragone, un ottimo anchorman che ha avuto una grande capacità di passare da un partito all'altro ma direi con la sua gang bank, col suo libro che ho letto, direi che il sistema è tutti colpevoli, quindi tutti assolti sostanzialmente nel settore bancario, forse no. Tra l'altro è molto bello il pezzo di Salvatore Merlo oggi sul foglio che vi consiglio in cui racconta come in realtà questa sia una deriva, come si vuol dire, una specie di tic della politica italiana, ci sono state commissioni su tutto quanto, dagli affari Locchi, da Moro a P2 a Ustica, commissioni che hanno una prerogativa direi fondamentale, quella di non servire a nulla, quella di tenere alta l'idea scandalistica, quella di essere una bandiera di chi l'ha fatta, cioè la sinistra voleva la commissione P2 così come i grillini vogliono la commissione bancaria, più o meno questo è lo stesso principio, cioè quello di una bandiera politica, e quella di portare a conclusioni dopo 30-40 anni. Insomma, non si nega a nessuno la commissione bancaria, ma serve a zero. Andiamo sulle cose efficaci, non sulle stupidaggini come queste. Nel frattempo, mentre noi ci facciamo le commissioni bancarie, oggi pochi giornali parlano, ma nelle settimane scorse Spizzichi e Bocconi è uscito, oggi mi sembra che solo il messaggero se ne ricordi di parlarne, anche se rubrica come inchiesta sostanzialmente quello che scrivono i giornali svedesi, che c'è uno scandalo in corso incredibile, cioè che la bella, straordinaria, pulita, verde, ecologica, la patria di Greta, la Svezia, beh insomma avrebbe, sarebbe coinvolta in un caso Svebank di riciclaggio fino al 2015 pari a 135 miliardi di dollari che, o di euro, scusatemi, una cifra monstre come potete immaginare, capire attraverso triangolazioni con l'Estonia, con la Russia, con la Lituania e sarebbero stati pizzicati dalla Fed, sarebbero coinvolte altre due banche svedesi, mentre noi qua stiamo, come dice oggi Italia Oggi, a verificare tutti quanti dal primo aprile i prelievi anche cumulativi superiori che arrivino a 10.000 euro, cioè se voi avete dei soldi in banca e li prelevate anche in più tratte e sono superiori a 10.000 euro, la Banca d'Italia vi segnala e vi andrà a controllare, mentre noi facciamo un mazzo così ai prelievi superiori ai 10.000 euro cumulativi all'interno dell'anno, quelli hanno riciclato 135 miliardi di euro, ma sono i puliti svedesi. Conte parla raramente, quando fa, lo fa, devo dire che fa casino, come ieri ad Assisi che si è fatto prendere forse dal clima francescano e ha detto che sullo Jussoli bisogna aprire una riflessione serena. Non lo è affatto serena, posto che Salvini a Quarta Repubblica lunedì stesso scorso disse, ma ragazzi neanche se ne parli dello Jussoli, non è esattamente nel contratto di governo. Il giornale oggi ha fatto dei calcoli molto interessanti che vi segnalo, e cioè le famose risorse che sono rappresentate dagli immigrati che vengono in questo paese, lavorano e quindi creano PIL e si pagano le pensioni, e sì, vale fino a un certo punto, perché per quanto riguarda il passato siamo noi che stiamo pagando le pensioni negli immigrati? Perché 500 milioni di euro sono pagati dai contribuenti italiani per integrare le pensioni in minimo al minimo degli extracomunitari, cioè ormai c'è una generazione di extracomunitari che sta andando in pensione in Italia e a loro stiamo pagando le pensioni sotto al minimo, perché evidentemente non hanno lavorato i mesi necessari, gli anni necessari, e quindi le integriamo, perché hanno diritto come tutti, alle pensioni al minimo. Quindi che cos'è? Non stanno contribuendo al nostro welfare, stanno utilizzando il nostro welfare, come peraltro ben si poteva immaginare. Un altro grande tema della giornata è il forum sulla famiglia, sembra scandaloso che ci siano alcune persone che pensino che la famiglia tradizionale sia fatta da uomo, donna e procreazione tra uomo e donna. Ovviamente io condivido al 100% la posizione di Cruciani e di Sallusti di oggi, che sono due posizioni diverse, due peccatori come si definiscono singolarmente entrambi, l'altro sul giornale, l'altro sulla verità, che dicono entrambi, o sul libero scusatemi, dicono entrambi, noi siamo andati al forum della famiglia. Sallusti dice io non ho trovato nessun medioevo là, ma ho trovato delle persone che vogliono che la famiglia rimanga tradizionale. E invece Cruciani che dice io la penso esattamente al contrario di voi, ma non riesco a capire perché voi non abbiate il diritto di poter dire che la famiglia tradizionale è la famiglia che voi amate di più. Come io amo le famiglie non tradizionali, famiglie completamente diverse, sono per addirittura l'utero in affitto, scrive Cruciani sulla verità. Non si riesce a capire perché la libertà, come dice Silvi, non vada difesa degli uni e degli altri, ma anche la libertà di quelli che pensano che la famiglia debba essere tutelata o comunque considerata. Sulla Brexit è l'altro grande temone da qual 12 aprile vedrete, ne vedremo di tutti i colori, il titolo più azzeccato è quello di Repubblica May+, un gioco di parole sulla Presidente e sul Premier britannico, che però un po' sottovaluta, lo troverete sul sito nicolaporro.it tra poco, un pezzo, anzi ora lo vedete in diretta, sul quale vi si spiega secondo me esattamente per quale motivo l'Inghilterra è l'unico paese al mondo in cui la democrazia parlamentare conta. Cioè lì non conta il Presidente, non conta il Premier, conta la democrazia parlamentare. Vi piace o non vi piace? è successo con Churchill, è successo con la Tatchel, è successo anche con Blair, che sono stati fatti fuori da colpi di mano del Parlamento, perché lì il Parlamento conta più dei Presidenti del Consiglio, più dei Presidenti della Repubblica, più dei Premier e il Parlamento sovrano, sovrano che per tre volte ha detto non si fa nessun accordo con l'Europa. Difficile a questo punto pensare a una proroga anche se non impossibile, perché per fare la proroga, ce lo racconta oggi la stampa, bene in prima pagina, cosa è necessario? che ci siano 27 paesi all'unanimità dell'Unione Europea che sono d'accordo a dare proroga alla Gran Bretagna. Questo per olandesi e tedeschi pare che sia possibile e fattibile, bisogna mettere davvero d'accordo tutto. Straordinario come sempre il pezzo di ricolfi oggi sul messaggero. Dice ragazzi, ve la faccio semplice, ma qua ci sono due errori che stiamo facendo sui migranti. Il primo è quando non abbiamo parlato della piratata che hanno fatto alcuni che hanno preso una barca e l'hanno dirottata a Malta e sono nei campi di accoglienza maltese. Due cose, dice. Punto primo, il diritto d'asilo è stato pensato per case individuali e non collettivi ed è uno strumento totalmente inadeguato per pensare a queste migliaia e milioni di persone che cercano di venire in Europa. Punto secondo, maggiore rispetto per gli ebrei. Dice esattamente così oggi ricolfi sulla messaggero. Ma i campi di concentramento non c'entrano nulla con quello che sta avvenendo nei campi libici. Non nego che nei campi libici sta arrivando delle cose orrende, ma ci sono due aspetti fondamentali che ne fanno una grande distinzione. Il primo è che non sono campi fatti dai libici, ma sono campi illegali, cioè quelli che vengono torturati, che subiscono quelle violenze inaudite, vengono torturati da dei delinquenti terroristi che non sono figli della Libia, ma sono esattamente i predoni della morte che cercano di portare in Europa queste persone. E seconda vicenda, cari amici miei, ricordatevi che la Libia è diventata un porto perché sanno che da quel porto si può arrivare in Europa. Insomma, mette in maniera politicamente scorretta, ma razionale, come sempre fa Ricolfi in luce, le tante ipocrisie sulle migrazioni. Ci sono due altre cose che vi segnalo ancora. Beh, è stupendo il pezzo di Mattia Feltri oggi, veramente stupendo, perché dovete sapere che il sindaco di Pompei voleva fare una ruota panoramica intorno a Pompei e tutti gli hanno dato del deficiente, tranne Mattia Feltri. E io sono con Mattia. Mattia, sei un grandissimo, perché non mi ero neanche soffermato. Dice, io ho incontrato qualcuno a Piazza Venezia che stava ristrutturando qualche cosa, un archeologo, e quell'archeologo gli ho detto, eh, ma che bel lavoro che stai facendo, straordinario, dovresti fare... e lui si lamentava, ah, per quattro soldi, sono un precario, non so quanto... e lui dice, ma sai, se vi vedeste e poteste anche raccontare alla gente quello che state facendo, far vedere quello che state facendo, ci sarebbe un interesse enorme verso il vostro lavoro, e lui gli risponde, non siamo in uno zoo, non mi fai... non puoi desacralizzare il lavoro che sto facendo, non si può desacralizzare Pompei, non si può desacralizzare il lavoro degli archeologi, non si può desacralizzare nulla in questo paese, e difatti non facciamo una lira, mentre invece a Londra si può desacralizzare con il big guy, non so, il ponte sul Tamigi, cioè la sostanza è la seguente, cioè quella che dice Feltri, Feltrino, sulla stampa. Ragazzi, smettiamola di pensare che qua sia tutto sacro, tant'è che è tutto sacro che stiamo mandando a malora tutto questo paese che non riusciamo a rendere moderno e up to date. L'ho messa diversamente, Mattia l'ha scritta molto bene, leggetevela, condivisibile. In questo periodo, una cosa che nessuno ha notato, nei mesi del governo Grillozzo, che voi sapete io non amo affatto, anzi per niente, però è incredibile, oggi sul sole 24 ore c'è un dato che neanch'io potevo immaginare, cioè nei tre mesi di borsa, nei primi tre mesi di borsa, la borsa italiana ha guadagnato il 16%, allora le cavallette che dovevano arrivare con questi qua, grazie alle manovre anche schifose che hanno fatto dal mio punto di vista, non sono arrivate e abbiamo guadagnato in tre mesi quello che in un anno si è perso nella borsa italiana, nel 2018 quando invece c'era Gentiloni quelli bravi, almeno per i primi sei mesi. Questo non vuol dire che questi abbiano fatto delle manovre buone di politica economica, bisogna semplicemente cercare di stare attenti e guardare le cose con la loro luce e cioè che purtroppo i governi nazionali contano fino a un certo punto nel definire. Simona, non sono d'accordo su questo punto, sulla ruota panoramica di Pompei, vabbè, bisognerebbe parlarne di più, però insomma guarda che l'idea che l'Italia sia immutabile, che la dobbiamo ottenere, i nostri beni come una sorta di cliptoteca secondo me è da superare. Il Pino Spagnolo, mentre noi siamo qua con la borsa che guadagna ha fatto il 2,5% nel 2018, insomma stiamo parlando di un altro mondo e prima voi ci segheranno le orecchie, l'ultima cosa, l'ultima cosa che vi segnalo è una cosa che voi potrete definire populista, ma secondo me non lo è. Perché l'amministratore delegato delle autostrade, Castellucci, si è portato un bonus nel 2018 di 3,7 milioni di euro, lo scrivono tutti i giornali ma ci apre Belpietro sulla verità. Allora, io non lo so, ecco, ma se tu sei il gestore di una società autostradale il cui ponte è crollato e sono morte 40 persone, io posso anche dire che non sei colpevole, che non sei oggettivamente colpevole. Ma cazzo, ma eri tu che gestivi l'autostrada? Io ho pagato il biglietto a te e tu tra l'altro l'hai gestita questa cosa per due mesi con un'arroganza, un'incapacità di avere il senso di questo paese, unica. Allora, voi date un premio nel 2018, voi siete orrendi. Questa si chiama reputation. Io volevo che Gian Maria Gross Pietro e il Castellucci, amministratore delegato delle autostrade, che io peraltro considero, vedremo se ci sono delle responsabilità oggettive, ma nel momento in cui avviene una tragedia di quel tipo, tu per dignità non ti prendi un bonus da 3,7 milioni di euro. Chiaro? Non ha nulla a che vedere con la Lega, non ha nulla a che vedere con il Movimento 5 Stelle, ha a che vedere con il buonsenso. I soldi che si sta riconoscendo Castellucci all'interno di autostrade mi fanno orrore, come deve fare orrore la minchiata che dice Zanda di aumentare gli stipendi ai parlamentari, non perché le cose siano populistiche, ma perché sono figlie dell'incapacità di capire che cosa c'è là fuori, cosa pensa la gente, qual è la situazione in cui ci troviamo, senza riuscire a capire che in questo paese ci sono 13 milioni di persone, cioè sul giornale di oggi, ne ho scritto oggi sul giornale, che dichiarano meno di 8 mila euro. Questo non vuol dire che io voglio meno ricchi, io ne voglio di più di ricchi, non voglio la ridistribuzione, sono un liberista, ma l'idea che Castellucci si faccia un assegno da 3,7 milioni non è liberista, è contro ogni principio di merito, io posso accettare miliardari, posso accettare disuguaglianze di reddito, posso accettare bonus anche da 100 milioni se c'è il merito, ma in questo caso se non c'è il merito e c'è semplicemente l'arroganza, questo diventa un calcio nel sedere al buonsenso di ogni italiano, chiaro? Bene, esatto, premio, ecco, bravissima, ricostruite il ponte in sei mesi e poi magari il premio ve lo diamo, mettiamola così, dice François, per oggi è tutto, sul sito nicolaporro.it tante altre notizie sulla giornata e a partire dalle news sulla Brexit, ciao!